È stata eseguita l'atopsia su Antonella Geraldi, la donna di Caltanissetta, morta all'ospedale Sant'Elia lo scorso 6 gennaio, dopo che era stato predisposto un intervento chirurgico. Dall'esame di cui si attendono i risultati ufficiali nelle prossime settimane, sarebbero emersi un infarto intestinale e un'emorragia polmonare. Proprio dal referto ufficiale potrebbero arrivare le risposte ai diversi interrogativi sulla causa del decesso. La donna era arrivata al pronto soccorso lamentando forti dolori addominali. Così si è reso necessario il ricovero e successivamente sarebbe stato programmato un intervento chirurgico. Dopo la morte di Antonella Geraldi, i familiari si sono rivolti ai carabinieri, chiedendo ulteriori approfondimenti. Da lì è stato aperto un fascicolo di indagine nei confronti di 14 persone. La scomparsa di Antonella Geraldi ha destato profonda commozione nel comune Nisseno, dove era conosciuta e apprezzata per le doti umane e per la sua professionalità nell'attività commerciale di piante e fiori che gestiva insieme al marito in via Calabria.